Musica Ti chiedo di presentarti Ciao, mi chiamo Stefano Gomollo, ho 16 anni e sono un atleta di Wakeboard Da quanto tempo pratici questo sport? Io ho iniziato a fare questo sport da piccolo, avevo circa 4 anni, grazie a mio pa che aveva già la scuola di Wakeboard a Viverone e mi sono avvicinato piano piano a questo sport a fine piccolo E perché hai visto che uno dei posti dove è nato lo scinautico e proprio Viverone non ha iniziato lo scinautico e invece ti sei appassionato a Wakeboard? Ho iniziato il Wakeboard perché mio papà avendo la scuola ho sempre visto anche da piccolo come andava avanti il Wakeboard quindi le varie barche differenti allo scinautico, le evoluzioni mi hanno sempre affascinato e mi sono avvicinato più a questo lato dello scinautico rispetto all'altro Grandi differenze tra il Cable Wakeboard e la barca, qual è delle due che preferisci e qual è la grande differenza? Allora, le differenze principali sono che nella barca si sfruttano le onde create dal motoscafo per eseguire delle evoluzioni mentre nel Cable si usano delle strutture simili a quelle che ci sono in montagna nello Joe Park quindi salti o rail fatti di plastica Io personalmente mi diverto di più a far barca perché l'ho sempre fatto, ho sempre fatto più barca e faccio gare la maggior parte di barca però allo stesso tempo il Cable mi diverte molto e lo faccio diciamo come passatello Il tuo trick preferito? Il mio trick preferito in barca è Double Half Caprol che è una doppia capriola partendo col piede inverso al piede solito e facendo una doppia capriola all'indietro Differenze sostanziali tra l'attrezzatore che utilizzi sulla barca e sul Cable Wakeboard ci sono? Sì, allora questa è una tavola da cable è molto più liscia sotto perché permette di scivolare sulle strutture anche i materiali sono diverse, queste sono fatte diciamo un filino più pesanti mentre quelle da barca, quelle nuove sono fatte in carbonio quelle che usano i professionisti e sono molto più leggere hanno anche delle linee d'acqua che permettono di andare molto più veloci sull'acqua rispetto al Cable mentre gli scarponi sono diciamo quasi simili forse quelli da Cable sono un po' più morbidi e alcuni come questi hanno la scarpetta per quando si cade nei Cable quelli full size dove si gira per camminare in Cable rispetto che alla barca si usa il casco per sicurezza e il bilancino è quello già del Cable mentre in barca ognuno ha il proprio Tu puoi personalizzare qualcosa della tua attrezzatura? Cioè nel senso o c'è uno standard quando fate le gare che deve essere uguale per tutti? In che senso? Nel senso ad esempio la tavola che può essere più piccola, più snella, più simile Cioè è libero o è, che ne so, c'è un regolamento preciso per cui c'è un controllo sulla tavola? No, 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 ognuno ha la propria tavola con le misure che sceglie il rider in base alla propria altezza, alle proprie esperienze e mentre anche la lunghezza della corda nella barca ognuno può scegliere la sua Chiaramente più la corda è lunga, più sarà l'ampiezza dei salti e più ci sarà più punteggio Il punteggio è soggettivo per il giudice o ha delle regole ben precise anche lui da rispettare? No, allora il giudizio viene esclusivamente dalla barca che ci sono i giudici sopra e usano tre criteri ampiezza, intensità ed esecuzione dove loro danno un voto per ognuno di questi però non ci sono, come ad esempio in uno scinautico, dei punteggi specifici a ogni figura Ok, una domanda Durante l'inverno, oggi siamo in estate, è bellissimo ma d'inverno come funziona? Allora, d'inverno io quest'anno è stato il primo anno che mi sono riuscito a spostare d'inverno per andare al caldo ho fatto un mese in Argentina con altri miei compagni della squadra nazionale e poi due settimane a Orlando da Massimiliano Puffaretti perché d'inverno qua in Italia è molto difficile sia per le condizioni climatiche e invece da noi, proprio a Viverone si chiude la navigazione dal primo di novembre fino al 15 di marzo quindi è impraticabile Diciamo che il weekboard, se non vado errato, ha fatto soltanto un'apparizione alle orecchie nel 72 come sport dimostrativo in realtà e poi non ha più in qualche maniera preso parte tu hai qualche idea del motivo per cui è così difficile? perché una delle condizioni che mi hanno spiegato potrebbe essere la necessità di avere condizioni uguali per tutti quanti esatto il cable wakeboard consentirebbe questa... sì, allora il cable sicuramente con gli anni più avanti potrà entrare alle Olimpiadi mentre la barca è molto più difficile perché oltre ad esserci un motore c'è anche una persona esterna che deve guidare la barca che quindi non può essere introdotta perché giustamente non si ha le stesse condizioni per tutti ma vale questa regola nel senso che ad esempio nello scinnautico hanno introdotto da qualche anno il sistema Zero Off che ti consente di avere stessa velocità, stessa traiettoria e sulle parche da wakeboard c'è un dispositivo che rende uguali per tutti ma similare? certo sì, sì c'è lo Zero Off solo che il problema del wakeboard è che ognuno ha la sua lunghezza ognuno ha la sua velocità quindi non si potrebbe mai andare tutti uguali perché c'è quello che pesa di più che ha bisogno di più velocità quello che invece è più grande, più esperienza quindi vuole la corda più lunga quindi non ci potrà mai essere una gara con tutti sia la stessa velocità e la stessa lunghezza di corda prossimi appuntamenti? io parto il 12 giugno per i War Beach Games a Birmingham, in Alabama torno direttamente su Roma per i mondiali qua in Italia e poi successivamente gli europei a Colonia inizio agosto poi ho forse il Pro Tour una tappa del Pro Tour sempre ad agosto ad Orlando e a settembre i mondiali di un'altra federazione della federazione professionistica americana dal 25 al 30, vero? dal 25 al 30 luglio la veda il salto a Rieti a Rieti ti faccio le ultime due domande che sono prevalentemente anche queste molto tecniche quali sono le protezioni che utilizzate? le protezioni allora in cable si usa il casco per giustamente sicurezza per le strutture che sono di plastica appunto e il giubbotto salvagente che viene usato allo stesso tempo anche in barca il giubbotto salvagente mi dicevano era per evitare botte, tagli sì, quello anche è per ad esempio se uno cade è un po' con i sensi non tanto stabili lo tiene a galla comunque domanda è raccontami un aneddoto se ce l'hai di una cosa divertente cioè se tu dovessi descrivere il wakeboard a qualcuno e ti viene in mente un episodio divertente che ti è capitato cosa diresti? cosa racconteresti? no, non ho capito se io racconto quando andavo a scuola mi vengono in mente una serie di episodi magari divertenti che potrei raccontare qual è una cosa, un aneddoto con il quale potresti descrivere la tua passione per... no, cioè il wakeboard è se dovessi descrivere a qualcuno il wakeboard è per me è una situazione molto particolare perché io mi sento sull'acqua e mi sento come se volassi sull'acqua e quindi non ci sono parole per me sull'imera mio passione ti senti a casa? sì va bene, per me è tutto grazie a tutti grazie a tutti